e ciao a tutti ragazzi al vostro mascarato ben ritrovati anche oggi qui sul mio canale sempre in quarantena per un nuovo video unboxing di una deluxe edition di un gioco playstation 4 ovviamente esclusiva stiamo parlando ragazzi come potete vedere nell'inquadratura di final fantasy 7 remake ma adesso sigla ed eccoci tornati ragazzi per unboxare questa meravigliosa deluxe edition di final fantasy 7 remake come potete capire non ho preso la first class edition per due motivi uno avevo già come potete vedere sulla destra una moto inerente a final fantasy 7 che è quella di advent children potete vedere anche dalla players key e poi ragazzi avevo già la players key di final fantasy 7 remake di cloud quindi avrei preso praticamente un doppione ho preferito evitare prendere direttamente appunto la deluxe edition che adesso ragazzi andremo ad unboxare subito subito unboxing attesissimo da parte mia ragazzi non vedevo l'ora arrivasse questo meraviglioso gioco adesso lo andiamo ad aprire vediamo subito la pellicola protettiva non potevo non prendere almeno la limited ovviamente quindi togliamo già ecco qua innanzitutto ragazzi la scatola come si presenta faccio vedere una piccola panoramica la scritta in rilievo è tutta ragazzi come si dice luccicosa vediamo come si va ad aprire ovviamente si apre da sopra vediamo subito i contenuti che abbiamo dentro togliamo subito la scatola abbiamo ragazzi la steelbook edition con l'inquadratura di sephiroth e dietro il logo con la scritta remake eccola qui aperta ed ecco qui come si presenta dentro immagine molto iconica cloud di fronte alla scirra poi abbiamo quello che a me interessa di più ragazzi che l'artbook nasce vedere qualcosina che intravede qui cloud ovviamente con la motocicletta che ho dovuto rinunciare mi accontento di quello che già ha qua ragazzi c'è la soundtrack la colonna sonora la mini colonna sonora poi ragazzi abbiamo il gioco di final fantasy 7 remake che adesso vi farò vedere aperto ecco tolta anche qui ragazzi la pellicola protettiva vi faccio vedere ovviamente il gioco come si presenta dietro e avanti fortunatamente a parte la steelbook hanno dato anche la custodia normale questa credo sia una cosa top la vado ad aprire vedete abbiamo i classici fogliettini che non vi farò vedere perché c'è il dlcd cactus è quello ovviamente che danno square enix poi abbiamo due blu ray come potete vedere il primo data disk c'è scritto e il secondo play disk ovviamente il primo sarà soltanto installazione e il secondo per poter giocare tolgo i dischi perché a quanto ho capito ragazzi la la diciamo l'immagine è double face si può girare reversibile perdonatemi c'è questa immagine con dietro queste poi ovviamente c'è l'immagine che è tutta nera con sempre il dietro adesso ragazzi vi faccio vedere direttamente tutto quello che c'è esposto nella deluxe ecco ragazzi nell'inquadratura la mia piccola e breve collezione di final fantasy 7 remake e advent children che dir si voglia la inquadro tutta nel dettaglio steelbook con sefirot lo scatolò diciamo della deluxe edition soundtrack l'artbook il gioco e poi ovviamente ragazzi vi faccio vedere piccoli oggetti della mia collezione sono la moto di advent children cloud in versione advent children cloud in versione remake zac di crisis core e sefirot di advent children spero ragazzi vi sia piaciuto il video e quello che posseguo di final fantasy 7 vi invito sempre a iscrivervi sul mio canale anche sotto in descrizione trovate il gruppo facebook da mascarato ragazzi e da tutta la mia collezione final fantasy 7 è tutto al prossimo video